Questa mattina al cimitero ebraico della Certosa a Bologna è stato piantumato un olivo in ricordo di Giovanni Palatucci. Dopo l'emanazione delle leggi razziali, Palatucci, reggente della questura di Fiume, contribuì a salvare migliaia di ebrei e altri cittadini perseguitati, riuscendo ad impedirne l'arresto e la deportazione. Scoperto dai nazisti, venne arrestato e deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove morì a 35 anni il 10 febbraio 1945, poche settimane prima della liberazione. Sentiamo il questore di Bologna e il presidente della comunità ebraica. Oggi in tutta Italia la Polizia di Stato ricorda il sacrificio di questo collega, giusto tra le nazioni, morto per aver salvato la vita a migliaia di ebrei. Un esempio di grande virtù umana, di grande coraggio e di grande sacrificio al truismo. Oggi con questo albero riportiamo in vita il ricordo di una persona che ha segnato giustizia nella storia.